benvenuti su tg7 basilicata i vigili del fuoco di potenza sono stati impegnati dalle 20 e 30 circa di ieri 10 settembre per la ricerca di una persona un uomo di lavello che allontanandosi dalla propria abitazione di quel comune non ha fatto rientro i familiari allarmati ne avevano fatto denuncia i vigili del fuoco sono accorsi sul posto in seguito all'attivazione del piano provinciale di ricerca persona da parte della prefettura di potenza e sono intervenuti con la squadra di melfi cinque unità e due mezzi e una unità di comando avanzata una sala operativa con personale specializzato nella topografia applicata al soccorso le ricerche dell'anziano signore partite da lavello sono andate avanti per tutta la notte fino alle 7 circa odierne quando la persona è stata ritrovata dalla squadra dei vigili del fuoco a rio nero nei pressi della provinciale per il monte vulture e affidata ai controlli del personale sanitario del 118 hanno partecipato alle ricerche i carabinieri la croce rossa le squadre di volontari